Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove per il traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla FIP-Li si segnala la presenza di veicoli in lento movimento tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Attenzione alla perdita di carico tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est sempre in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Poggi Bonsi e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena con conseguente chiusura dello svincolo di Colle di Valdelsa Nord. Scambio di carreggiata anche tra Colle di Valdelsa Sud e Monte Rigioni sempre in direzione Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!